dà dei tiri. Io col destro al massimo sono arrivato a 136 all'ora. Uno dice, è già tanto, sì, ma col sinistro ho fatto 179. Anche perché questo? Per quale motivo? Perché questo allenatore una mattina mi fa, Paolo qual è il tuo piede? E gli dico, il destro è quattro mesi che mi alleni? E lui dice, è il piede più forte? Il destro viene normale, chi è che dice? Lui mi fa, bugiardo. Io ho detto, Oberdan, perché sono bugiardo? Lui mi fa, quanto pesi? Io peso 70 kg, il pallone pesa 420 grammi. Allora, qual è il piede più forte? Quando salti di testa, qual è il piede che ti spinge in alto? Mi fa, te lo dico io subito, così non stai a diventare male. È il piede che non calcia, quindi un destro è il piede sinistro che lo fa saltare. Viceversa, il sinistro è il piede destro. Se te impari a usarlo, calci più forte. E aveva ragione. Io devo dire, grazie a quell'uomo, logico, certe cose da fermo, i rigori, certi tipi di punizione, preferivo il destro che era il mio piede naturale. Però con la palla in movimento, preferivo il sinistro perché è più potente, più imprevedibile il tiro per il portiere. Quindi mi ha permesso di ottenere, di fare tutti quei gol che ho fatto, grazie anche a questo insegnamento. Perché se contiamo i gol su 172 fatti col toro, 56 sono di sinistro. Se non imparavo a usarlo, non li facevo. È un po' come l'insegnamento che faccio con i bimbi. Io con loro cerco di parlare il meno possibile, non per sbaglio, perché per far capire di più i bambini, quando te fai vedere un bambino un gesto, loro lo copiano immediatamente. Anche voi che siete non troppo avanti quegli anni lo capite, lo vedete.